Gemone, è un grande piacere averti qui da venti. Io avevo fatto un sacco di battute sul fatto che avremmo avuto un ospite con un capello più voluminoso del mio e invece mi hai tradito. No, ma il caldo impone... Impone un altro tipo di approccio, però è il primo ospite più alto di me, quindi questo è un altro piccolo primato. Madonna che intervista EcoCentrico. Non tutti sanno che io sono alto 3,02 metri. Sì, c'è un sacco di cose che non tutti sanno di te. Partiamo da quella che un po' invece sanno perché rompiamo la quarta parete e tu stai per tornare a suonare dopo tanto tempo. Come senti? Sei emozionato? Cosa ti è mancato? Sono emozionato? Sì, sono proprio genuinamente emozionato. Non è una frase fatta. Cosa mi è mancato? Sinceramente poter fare il mio lavoro a pieno regime, che però significa farlo con tutte le persone della mia squadra, diciamo che l'anno scorso è stata un'altra grande frase fatta, ma sentendolo come una vera e propria famiglia, la squadra di musicisti, di tecnici, rivederli ognuno al proprio posto è la cosa che mi emoziona di più. Così io posso anche ritornare a fare il mio ruolo a pieno e preoccuparmi solo di quello che credo di saper fare. Però è una frase fatta che in realtà poi tu hai riempito di impegno, nel senso che hai partecipato anche alla musica che gira, sei speso per questo mondo dello spettacolo. Pensi come vedi oggi lo scenario? Siamo pronti a, parola abusata e scivolosa, ripartire? Credo di sì, è comunque un'altra estate in cui guardiamo qual è l'evoluzione, perché non abbiamo del tutto delle certezze, però sicuramente maggior agio rispetto all'anno scorso. Diciamo qualche certezza in più e per quello che effettivamente possiamo fare dei concerti dal punto di vista tecnico molto più simili a quelli pre-pandemia o almeno del tutto simili a quelli veri, vedremo com'è la reazione del pubblico. Io penso insomma che è ancora strano ovviamente fare un concerto con le persone sedute, anche se a me mi intriga l'idea di potergli dire su le mani e giù i sederi. Bello. Mi piace. Una cosa che mi raccontavano i tuoi colleghi è che è buffo vederli cantare con la mascherina, quindi non capisci bene cosa, cioè se ti stanno cantando con te oppure se non cantano, cioè è più difficile decifrarli, però in realtà pare che se le mascherine aperte si tolgano, quindi questo problema qua non si pone più. Sì, no, in effetti sì, non lo so, ma mi va bene anche questo, dai, rispetto a niente, sono molto contento anche dell'enigma, magari sbaglieranno tutte le parole e almeno non li vedo e non mi distraggo. Ci sta, d'altronde odio quando il mio cantante preferito sbaglia il suo testo, mentre io sto cantando male. Però questo ti devo subito dire, io questo alle prove lo faccio spesso, magari i musicisti mi guardano per dire hai sbagliato e io dico la canzone l'ho scritta io e perciò faccio quello che voglio. Giustamente. Io ti ho scoperto, ti ho scoperto, manco fosse un discografico, ti ho conosciuto con un temporale, andavo all'università ed era una canzone che mi aveva molto colpito, poi mi sono appassionato a capire da dove arrivasse la tua musica e le tue influenze e ho trovato una canzone di articolo 31, cosa che mi ha un po' stupito, ho detto, cioè, tocca qui mi pare fosse. Certo. Cosa hai ascoltato da universitario, da ragazzo? Il gancio con gli articoli è molto precedente, molto precedente perché invece erano i primi esperimenti di rap in italiano, in cui ovviamente mi imbattevo quando avevo 13, 14 anni, che non sembrerà ma è tanto tempo fa. Da universitario, ma come a scuola ho sempre avuto degli ascolti che erano il mio microcosmo e che difficilmente riuscivo a condividere con gli altri. Ho sempre ascoltato, diciamo, musica black americana, quindi soul, rap, R&B. Tuttora mi chiedo perché io mi sentissi rappresentato da quello, in quel momento non potevo condividerlo, però ragionava con me, mi muoveva qualcosa, mi toccava delle corde, quindi ho sempre ascoltato quello. È tanto Pino Daniele, però conta che all'università il mio, diciamo, miglior amico dell'università, Rocco, i suoi cantanti preferiti erano Max Pezzali e Vasco Rossi, quindi non avevamo ascolti in comune. Io devo leggere un tuo tweet, perché sono molto fan del tuo Twitter, in cui dicevi, scusate, lo leggo proprio. Ho subito tante critiche alla mia carriera, ma non ho mai gerito la voce secondo cui un temporale fosse un plagio di O sole mio. A me non sembrano cose simili, ma cosa ne so io? Ogni tanto io, mentre sto facendo cose che non c'entrano niente con la musica, mi vengono in mente queste stronzate e penso che possano far ridere e soprattutto penso che possano anche far fare a qualcuno questa cosa che è quest'operazione. Rido all'idea che qualcuno pensi, ma che scemo. Che uno interrompi lo scroll per fare proprio il gesto di dire, madonna cosa ho letto. Cosa ho appena letto? Non lo so, comunque una buona dose di autoironia serve. Mi prendo molto sul serio su quello che faccio, ma proprio tanto perché è la mia vita, quindi ogni tanto devo interrompere con una risata. Perché poi ovviamente la cosa fa ridere doppiamente, perché poi c'è qualcuno che dice, ma non si assomigliano proprio le due canzoni. Allora le rido io. In un'altra intervista ho letto che dicevi, io nella musica faccio fatica a portare questa qualità umoristica, questa ironia. Mentre invece, cioè sei molto forte come stand-up comedian. Hai fatto esperimenti, è una cosa che ti appassiona. Sì, sì, ho fatto, ho fatto. Ed è una cosa poi che rientra in qualche maniera anche nella parte dello spettacolo, del concerto. Perché c'è sempre qualche cosa che magari allude un pochino al mondo della stand-up. Sempre dei momenti pensati dove parlo, ma non sono mai detti tanto per dire o lasciati del totale istinto, ma sono sempre pensati, scritti e portano poi un po' a pensare, a costruire un ragionamento e un po' a ridere, che è quello che poi la stand-up fa. Non riesco a fare delle canzoni, diciamo, che ti facciano avere la risata. No, non lo so. Ma non si presta la forma, cioè non... Non è quella l'emozione che cerco attraverso le canzoni. Cioè, non ti voglio far ridere con le canzoni. Ti voglio far, probabilmente, divertire, ti voglio far ballare, ti voglio far pensare, ti voglio far piangere, ma non ti voglio far ridere. Sorridere, ma ridere no. Sorridere con moderazione. Cioè, ridere con contenimento. Esatto, esatto. Ma perché Twitter, invece? Mi fa molto ridere, perché, cioè, si vede proprio... Cioè, è molto forte, sono sinceramente ammirato del tuo Twitter, cioè non lo uso, se vuoi cercarti perché mi fa molto ridere. Ah, quello è... Perché quella formula lì non Instagram o Facebook... Perché quello lì è stato... L'ho sperimentato subito quando, diciamo, ho potuto aprire l'account. Ormai, boh, saranno 12-13 anni fa. Quindi ne ho imparato tutte quante le dinamiche. Ed è quello più verbale, semplicemente. Diciamo, non metto le foto su Instagram perché... Un po' anche perché devo, ma... In realtà, se potessi concentrarmi solo sulle parole e non farmi le foto, do fare. Ok, adesso smetto di fare il fanboy ufficiale del tuo account Twitter, con l'ultima citazione, che è una roba che mi ha fatto ancora più ridere, in cui dicevi Leggo un'indiscrezione di gossip sul fatto che aspetterei un figlio. In realtà non capisco perché non metto le notizie vere, tipo il fatto che ho due peni perfettamente funzionanti. Sai che anch'io, tra l'altro... Hai visto? Allora diamoci... È una roba assunta. No, questa condizione, diciamo, bipenale è una cosa che secondo me molti non la dicono, ma accomuna molti. No, scherzo. Anche lì, questo nasce da una cosa, diciamo, che ti arriva nel momento in cui hai a che fare, diciamo, con la notorietà. Quando ti arriva, ti sorprende sempre, cioè che trovi su un giornale delle notizie, diciamo, sul fatto che diventerai papà, ma non lo sai. Viene un po' messa... Tra truncchia, che scoperta! Che scoperta! Di solito è, cioè, insomma, lo dovresti sapere. Quella cosa che comunque poi crea un piccolo cortocircuito privato, perché dici, cavolo, una cosa così delicata della mia vita, messa sui giornali, e non solo, ma poi con i parenti che dicono, ma come non ce l'hai detto, no? Allora, ho pensato di ridere di un piccolo cortocircuito privato. Ti raffastidio l'attenzione, vabbè, chiaramente il tuo lavoro un po' di attenzione lo richiede, nel senso che è anche bello, no? Quando uno poi ti chiede una foto, un autografo, ma questa attenzione qua ti raffastidia invece il gossip? Non so se poi lo subisci particolarmente, io ho letto solo questo tweet, però come la vivi in autorità? Io tendo ad essere molto discreto, quindi non è che ci siano, cioè le cose diciamo che si sanno di me sono quelle che racconto io, in quelle sono molto onesto, le altre preferisco tenerle per me, perché sono una persona discreta, sono fatto così, quindi non vivo male il gossip perché ce n'è poco, diciamo, attorno a me. Ci sarebbe niente di interessante, cioè ci sarebbe da dire che mi sono lavato i denti due volte oggi, beh, non lo so, insomma, chi se ne fa qualcosa di questa informazione? Sono molto d'accordo con il concetto di, che va in contrasto con i social, di too much information, cioè ci sono quando… TMI! Sì, troppa roba che le persone che mi seguono non hanno bisogno di sapere, non è interessante per nessuno sapere tutti i ristoranti in cui sono stato e comunque non è la mia storia. Tornando alla musica, tu hai fatto veramente di tutto e sei anche un po' il sogno dei giornalisti perché, cioè, possono addossarti qualsiasi etichetta, no? Cioè dal funk al jazz alla soul music, insomma, tranne il metal pare che tu copri tutto l'arco parlamentare della musica. Però c'è anche una cosa bella, ovvero che tu non temi la complessità, è una cosa che fai consapevolmente, è una tua componente istintuale che ti porta lì? Cioè nel senso che a me piace che in un mondo di cose semplici la tua musica sia anche complessa a tratti, ecco. Ti vorrei dare un abbraccio perché l'hai spiegata bene, quindi non lo so, mi sono emozionato. Io sono complesso, quindi diciamo un po' la complessità che è dentro di me la provo a sbrogliare attraverso la musica e sono curioso. E sono uno che è molto in competizione con se stesso, non tanto con gli altri. Quindi quando una cosa mi piace e penso che con il lavoro posso trovare una mia strada, faccio di tutto per farla perché l'idea di non riuscirci mi fa diventare matto. E in questo c'è pure una componente ovviamente di divertimento. E anche di esplorazione, perché quella fa parte della curiosità, quindi di aprire delle porte che nessuno ha aperto. Ma poi non ci penso neanche tanto agli altri, cioè penso a me piacerebbe fare questa cosa, vediamo se sono capace a farla. E mi metto lì e ci provo e ci riprovo fin quando magari effettivamente l'unica cosa che poi mi interessa è che comunque porti là un pochettino la mia firma. Però è bello perché è raro, cioè è veramente molto raro. Io ho in mente pochi artisti che siano capaci di essere credibili e non svariare da mondi così diversi. Un genere che tu hai frequentato, che poi in realtà forse è la definizione più ampia che ti si possa dare, è rapper. Però insomma non lo so, ti sta molto stretta come abbiamo detto. Però la tua musica ha la particolarità, invece di raccontare quello che è tipico delle tematiche, parola bruttissime, urban, che sono la rabbia, la cosa. Tu metti spesso la tua fragilità in musica, che è un altro gesto abbastanza in controtendenza, ecco. Sono poche le persone che cantano le proprie fragilità e secondo me è una cosa bella per tutti. Sì, quando io mi sono imbattuto nel rap ed ero ragazzino, poi prima di tutto ovviamente quando ero ragazzino mi sono imbattuto nel rap, ovviamente ho trovato anche quella parte un po' più di pancia che un ragazzino vuole, no? Perché comunque è in piena fase di ribellione. Ma quando ho iniziato a scrivere e dopo tre o quattro anni mi sono reso conto che però in fondo stavo scrivendo le stesse cose che scrivevano tutti e non stavo dicendo però niente di me, non stavo dicendo chi ero io, come la pensavo, eccetera, eccetera. A quel punto ho detto prima di tutto l'onestà, prima del costume da supereroe. Così non dovrò fare la fatica di ricordarmi tutte le balle che ho dovuto inventare. Faticoso mentire. Si fa, ma se posso dico la verità, mento per sopravvivenza. E quindi di conseguenza a quel punto l'abitudine è diventata quella di parlare a quel punto delle cose che mi sono più vicine, di come sono, di quello che leggo fuori e allo stesso modo di aprire una porta, cioè di dire alle persone in realtà non è assolutamente vero che esiste un solo tipo di rap, ma ci sono anche tante declinazioni. Possiamo usare un'etichetta tipo Conscious Hip Hop? Cioè, ti piace rispetto ad altre? Non lo so, mi sembra che rientri un po' nel mondo del Kendrick Lamar, di quell'universo lì. Certo, certo decisamente, però anche quello contiene, anche nelle mie canzoni, a volte linguaggio esplicito, riferimenti sessuali a sesso occasionale. Però è la consapevolezza, no? Cioè il fatto di essere cosciente di quello che sta raccontando. Sicuramente se non sponsorizzi di continui comportamenti poco virtuosi, allora sei cosciente, quindi sicuramente sei Conscious Hip Hop a lui. Allora, te l'hai cercato tu, chiaramente, che rapporto hai con le bugie? Che rapporto c'è con le bugie? Mi stanno tremendamente sulle palle. Mi stanno sulle palle, ripeto, a volte ci sono quelle bianche che vanno dette perché vanno dette, che si dicono più per non offendere gli altri che per se stessi, però per il resto preferisco la verità. Cioè la verità non mi fa paura né a dirla e né a subirla. Quello che magari riguarda la verità mi può interessare sono i modi, sono dei modi per dire anche le verità. A volte bisogna dirle come sono, a volte si può trovare anche una maniera che non sia cattiva. Cinica. Esatto, non cinica e quindi non ti imponga di dire una bugia. Però le bugie in generale non è una cosa che sopportano, se le metto proprio in cima alla lista. Nel tuo ultimo album che è Vissero Feriti e Contenti, c'erano tante canzoni che parlano d'amore e ce ne sono alcune che ne parlano come una cosa meravigliosa, splendida, altre invece sono alcanti amori più tormentati o più complessi. Mettiamoli sulla bilancia, è più un bene o un male? È una domanda un po' stupida, ma raccontandoli entrambi. Ma guarda, la storia della musica è fatta, praticamente, la maggior parte dei dischi sono venduti con canzoni che parlano di amori che non sono andati bene, quindi capito io chi sono per differenziarmi. No, però pensavo nel mio elemento canti di proprio un amore stupendo, no? È bello poterlo dire, raccontare da adulto, perché non è un amore raccontato, un amore di fantasia in quel senso, cioè di una cosa vissuta, sudata. Di solito anche nei testi comunque c'è una complessità, perché la vita di tutti i giorni anche in coppia è una vita fatta di un sacco di ostacoli. C'è nell'innamoramento, ma poi dopo ci sono mille altre cose, perché quando si è grandi si litiga delle volte anche per delle cose che sono difficili da smussare. e a quel punto la grande competizione è riuscire a durare. E quindi no, l'amore in realtà è una costante, diciamo, sia quando è mancato, sia quando è poco riuscito, sia quando è molto riuscito, a cui sono molto affezionato, ovviamente. Hai usato un'espressione che trovo sempre buffa, che è da grandi. Tu hai cominciato a sentirti grande in un momento? C'è un episodio, una roba, qualcuno ti ha del lei al supermercato, queste cose qua? I turning point della vita, cioè? Non lo so, la classica frase, le ragazze sono più mature dei maschi. Mi stava sempre sulle scatole perché dicevo, ma io ho 14 anni, ma in questo momento me ne sento 32. Quindi mi sono sentito sempre abbastanza grande, poi magari nei termini non lo ero nemmeno. Però nel mio caso si fidanzavano sempre con gli altri, poi le ragazze a 14 anni, quindi forse in effetti non ero così matura. No, no, mi ha anch'io. Credo di essermi sentito grande quando mi sono reso conto che avevo la libertà di fare delle cose senza chiedere il permesso o mi dovevo prendere delle responsabilità senza chiedere aiuto. In quel momento mi sono sentito che era capitato negli anni a più riprese, diciamo. Un altro tema da grandi che riguarda anche l'amore è la gelosia che è molto presente, è molto presente, è presente nel tuo album. C'è una canzone specifica che è La Tigre in cui racconti proprio dell'inquisizione, ogni tanto si subisce o che si fa. Tu che rapportai con la gelosia? Cioè in generale è una cosa che ti spaventa, la consideri una parte normale di un rapporto. La gelosia può essere di due tipi, cioè in generata dall'altro oppure dovuta a traumi o insicurezze di chi la prova. A volte le due cose si mischiano e tento sempre di creare un clima dove invece ci sia massima tranquillità, no? E dove l'altra persona si senta, adesso mi prendo il Nobel come Gandhi, però dove l'altra persona si senta valutata, si senta amata e senta che non c'è bisogno di pensare che possa arrivare un'altra persona e ti porta via. E lo stesso cerco ovviamente io come persona, quindi a parte la gelosia quella proprio istintiva, istintiva, vedi, a fidanzato, a fidanzato che parla due centimetri con uno e dici oi, 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 oi. Quella però fa parte del DNA, sono sempre di Avellino. No, ma poi penso che, cioè, alla fine stai anche in una situazione d'affetto, chiaramente poi però, cioè, apprende delle distruzioni assurde, cioè tu racconti proprio, adesso non mi ricordo il testo di memoria, però dici cosa vuoi? Che ti riveli, cioè, cosa vuoi sapere, no? Sì, cosa ti posso dire? Poi questo, anche questo è un argomento molto, su cui sono molto sensibile, perché delle volte, soprattutto se una persona è gelosa per indole ed è un problema suo, cioè non lo stai ingenerando tu, se tu inizi a dire, leggi i messaggi, tu stai alimentando la sua gelosia, non la stai calmando, e non va bene. Non posso salvarti è una canzone che racconta di una cosa molto vera, e anche racconta anche nel titolo, cioè, uno non salva gli altri, non siamo Gandhi, non siamo salvatori. È una cosa, tu hai avuto la sindrome da croce rossino? Ti è capitato di buttarti i rapporti per salvare qualcuno, di essere salvato, insomma, di diventare quella dinamica lì? Sì, basta anche così, basta anche questa faccia. Lo sono anche, non so, i rapporti d'amore, eh, lo sono rapporti affettivi, rapporti di lavoro, cioè, delle volte, nel senso che ti fai proprio carico di qualcun altro e dici, ok, adesso devo fare in maniera tale che questa sua insicurezza, diciamo, la possiamo colmare insieme, così, e invece, no, invece, dai grandi. Crescendo si prova poi a applicare, a applicare, diciamo, un altro concetto, che effettivamente poi ognuno si dà una mano da solo e così si sta meglio insieme. Torno un attimo ai social perché ho letto una cosa bella che dicevi in un'intervista, ovvero che scrollare su Instagram mezz'ora è più frustrante di un colloquio di lavoro andato male. L'hai già detto un po' prima, tu scappi da quello che è evidentemente più ostentazione visiva e sei più comodo sulle parole, però cosa pensi? Anche un po' domanda, non ti offendere per la grafica, ma come era prima, cioè, nel senso, quando non c'era Instagram, tu sei cresciuto e non c'era Instagram, cioè, vedi diversità in questo senso? Eh, sì, ci sono, però è come era prima, quando non c'era Google Maps, si arrivava lo stesso nei posti. Però io a questo non credo, veramente. No, invece, sì. Non ci credo che i miei genitori arrivassero nei posti senza Google Maps, mi sembra impossibile. Eh, invece, cavolo, è vero, cioè, nel senso che è proprio vero, ti posso dire che il primo anno dell'università, i primi due, che ero a Roma, primi due, primi tre, avevo lo stradario di Roma in macchina e per arrivare nei posti dovevo ogni tanto fermarmi e incrociare, era così. Sì, i tempi erano diversi, si calcolavano i tempi in un'altra maniera. Ritorno sulla cosa dei social, eccetera, eccetera. Anche perché continuavo a non crederti, scusate, per me è inconcepibile, uno esce in ritardo di casa, prende lo stradario, fa dei calcoli, lo ripiega, soprattutto riesce a ripiegarlo, riesce poi a rimetterlo a posto. Esatto, quella era una cosa incredibile, infatti quello di Roma era fatto per pagine. Pazzesco. E dovevi fare soprattutto con le coordinate, no? Tipo Z4. Cioè, battaglia navale. Ok. Torniamo sui social. Ma guarda, io lo dico perché l'ho vissuto, poi ho capito che questa cosa faceva parte del mondo di tutti. Cioè, so che ne deriva una fase deprimente da quello. Nonostante tutto, l'algoritmo è molto capace di ritirarmi anche a me ogni tanto dentro, ma io sono altrettanto capace di rendermi conto che quella cosa delle volte non va bene. Non va bene quello, non va bene la cosiddetta FOMO, fear of missing out. Nocce sei sempre nella paura che ti stai perdendo qualcosa, anche tipo quando stai al ristorante festeggiando il tuo compleanno e vorresti essere da un'altra parte. C'è sempre qualcun altro che mentre tu sei al mare è a un mare più bello da un altro lato, però questa cosa deve averci una fine e se non c'è l'acqua dentro il telefono ce la devi per forza avere nella tua testa. Cioè, devi fare pace a un certo punto. Non ci riesco sempre, però mi rendo conto che è una dinamica malata. Ti faccio un altro esempio. Io sono super appassionato di sneakers, super appassionato di sneakers e colleziono sneakers da tanti anni. I social e Instagram, che ovviamente è ostentazione, eccetera, eccetera, è complice il mercato, diciamo, delle sneakers che ha aumentato vertiginosamente la sua produzione con, tipo, decine e decine di uscite settimanali. Ha creato, diciamo, la situazione delle pareti, diciamo, intere di sneakers. Quindi qualsiasi ragazzino crede, ovviamente, che la parete piena sia uno status e che tre paia di scarpe non vadano bene. E inizio a vedere, come dire, i primi posti di sensibilizzazione e di supporto a dire, non ti preoccupare, se hai solo tre paia di scarpe non è un problema, se non hai comprato quella cosa. Ti rendi conto che il sistema si ingenera, diciamo, attraverso l'ostentazione? Allora si deve fermare nella tua testa. Quel sistema probabilmente ora da solo non si stoppa, perché ingenera tanta roba. No, perché è disegnato per farti stare lì. Cioè, è proprio malato il meccanismo, perché comunque vada, è il desiderio delle vite degli altri che poi ci porta lì, è uno stranissimo... Esatto. Vabbè, divento un moralista, quindi ne esco una piruetta, ne esco una piruetta e ti dico un'altra cosa. Al di là di tutto, c'è sempre il ragazzino con le scarpe, giustamente, chiaramente c'è anche poi i temi di privilegio, no, perché poi c'è anche un potere d'acquisto, cioè non è che un ragazzino può compararsi a chi fa il collezionista e ha un reddito diverso. Ma questo delle volte crea anche una situazione economica svantaggiosa, nel senso che c'è qualcuno che si mette nei guai economicamente. Certo, si indebiterà, immagino. Si indebita, quindi non va bene. Infatti per me è abbastanza assurdo che appunto poi le passioni si speculi così su delle forme di disagio mentale, no, perché quello che stiamo parlando, c'è il disagio di salute psicologica. Sì. Va bene, per alleggerire un po', io ti faccio un'osservazione che forse non ti hanno mai fatto. Tu lo sai che possiedi solo due piedi come i miei, vero? Sì. Tu hai solo due piedi? Quindi perché possiedi questo numero di sneaker? Cioè, cosa ci devi fa? È tutto normale? Cioè, per me è una cosa incomprensibile, volevo fare solo un intervista sulle scarpe. Guarda, allora, se me le rubassero sarei molto arrabbiato, ma se le mie scarpe domani mattina, io non dico tutte, ma sparissero, così, sarei contento perché uno, quella collezione l'ho costruita e due, me le sono messe tutte. Quindi hanno avuto un significato, diciamo, nella mia vita. Sono molto contento. Per il resto, quello che è la mia, diciamo, battuta principe di questo periodo, era mia preferita. Io sto esaudendo i risideri del mio bambino interiore e il mio bambino interiore mi sta uccidendo. Ma anche perché è un millepiedi il tuo bambino interiore, cioè. Quindi si sta prendendo tutta casa mia, tutti i miei soldi, però sta esaudendo i suoi risideri. Ma tu non devi spiegare. Adesso, guarda, scusami, io entro un po' severo in questa parte di vista, perché è veramente una cosa affascinante per me. Cioè, cosa, cioè, in base a cosa dici ho bisogno di un altro paio di scarpe? Cioè, sono un colore che sta bene con un pantalone? Sono una scelta cromatica? Sì, scelte cromate, scelte di materiale, scelte di design, scelte di forma. C'è una delle scarpe che mi abbracciano, cioè, cosa fanno queste sneaker potenti? No, hanno materiali diversi, perlami diversi, materiali riciclati diversi, forme diverse. Insomma, ci sono fior di designer che ci lavorano, quindi devo dire che ovviamente ha una grossa parte artistica. Ma perché questo potresti chiederlo ai tuoi genitori? Ti garantisco che prima, diciamo, la scarpa da tennis o da ginnastica veniva utilizzata solo quando si doveva fare sport, quindi erano tutti con le scarpe serie. Se esci di qua, vedrai che hanno tutti più o meno delle scarpe da ginnastica e questo significa che quel concetto lì, anche dal punto di vista del design, ha rivoluzionato, diciamo, la cultura popolare come la conosciamo, no? E questa cosa mi affascina un sacco. Quando so che una scarpa tipo l'Air Max 1 riporta le forme del Centre Pompidou a Parigi, la cosa mi gasa e dico, pensa il designer che ha fatto, oh, guarda, su shape, così, eh? Pazzesco, sono... te la sei cavata benissimo intanto, cioè ne sei uscita a testa alta proprio, cioè la scarpa è uno statement culturale, quindi è un progetto artistico, quindi assolutamente hai giustificato il tuo feticcio in modo straordinario. Va bene, mi hai convinto sulle scarpe. Dai, cambio volto pagina e chiudo con due domande anche un po' sconnesse. Una è più giocosa ed è quella sull'operazione Televoto Sanremo, che mi ha molto divertito, era molto carina, però abbiamo detto prima la complicità della tua musica, ma in realtà tu sei anche molto pop, cioè sia nelle tematiche che nei testi, ma anche nell'attitudine, cioè sei qua a ridere in modo anche autoironico delle tue scarpe, sei qua a prendere... e anche in quei video lì ti prendevi molto in giro, quindi è molto apprezzabile. Tu senti di essere arrivato all'essere pop in un senso nobile, ovvero di appartenere, di essere comprensibile per tutti? Credo di sì, anche se gioco sul filo, ricontinuo con questa cosa, delle volte mi sembra di sì, delle volte mi sembra di no, mi piace stare su quel filo, devo dirti la verità, non amo l'idea di fare solamente la spesa al centro commerciale, non desidero viverci, però mi piace andarci una volta ogni tanto, tipo alla domenica, a mangiarmi un hamburgerozzo e guardarmi un film. Che è bello che quando ci sei andato a Sanremo, quindi uno specifico, ma sempre con un senato al centro commerciale, mi ha vestito fichissimo, super stiloso, cioè sia... adesso vado in moria, rosa e viola, e quest'anno hai portato... Un momento perfetto. Un momento perfetto, c'erano due canzoni che comunque vada, sembravano... Sarebbero state comunque della mia discografia, non sono fatte apposta. Io parlo proprio della cultura, quando dico poi centro commerciale, parlo della cultura proprio di massa, quella proprio di massa, grande, 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 perché poi c'è anche un immaginario popolare comunque più sofisticato, cioè di arte più sofisticata, che non è proprio per tutti tutti, cioè non è proprio per la massa, però è per una parte diciamo importante o grande del paese, e penso che in questo momento con quella riesca a parlare bene. È più difficile per me parlare diciamo proprio con la cultura di massa, flertare di continuo, perché probabilmente non è il mio obiettivo. Nell'altra canzone leggo, canti nella vita speri tanto di non cambiare, però alla fine ti lamenti che è tutto uguale. Io volevo avviarmi alla conclusione con una domanda un po' marzulliana, quindi cosa speri che cambia e cosa invece speri che rimanga di questo periodo, al di là del periodo di una complessità, ma di un periodo della tua vita, ecco. C'è una domanda importante. Come vedi ci ho anche messo un po' di pensiero e difficoltà. Esatto, esatto. Ma io spero che non cambi diciamo la gioia che sto trovando nel fare le cose, diciamo, perché è molto di più della preoccupazione di come poi dovranno andare, di come lo dovrò fare, di quello che sarà dopo, diciamo, riuscire a stare un po' più dentro alle emozioni. Faccio proprio l'esempio più banale del mondo. Ho fatto le prove, diciamo, con la mia band nell'ultimo mese e sì, mi sono immaginato come sarebbero stati i concerti, ma ho cercato di godermi anche la costruzione di quello che stavamo facendo e sono arrivato magari qualche volta a fine giornata a dire, sono contento, sono proprio soddisfatto di questa giornata. Normalmente invece avrei già pensato nel tour del 2024. Cosa farò? Potrei, e quindi vorrei che questo rimanesse con me, questa grande novità della mia vita, diciamo, ogni tanto di assaporare il momento di non avere sempre l'ansia del dopo per sempre lì avere la lista delle cose a cui da depennare in modo che mi sento più tranquillo. quello, diciamo, è una bella novità. Cosa vorrei che cambiasse? Ehm, il mio conto in banca. E smetti di comprare le scarpe. C'è ragione. Vabbè, basta, io ti... Noi regaliamo sempre un libro ai nostri ospiti, io in realtà ho scelto un libro... Lo scrutavo io da lontano. Lo scrutavi, si chiama, mi raccomando, mi raccomando, tutti vestiti bene. In realtà, chiaramente, da quanto so che per te non vale, tu sei il king dei vestiti bene, sei l'oste più stiloso che abbiamo avuto, ma ci tenevo a lasciarlo come... Grazie. Ricordo. Grazie. Ed è stato un piacere averti qui, grazie mille. Sono contentissimo, non vedo l'ora. Oh, che bella, c'è anche una bella... Sì, purtroppo non so fare i cuori, quindi c'è un asterisco in cui mi scuso. Non ti preoccupare, questo regalo mi gasa. E quindi, grazie. A te.